Non leggo i giornali, perché sono in giro per lavoro tutto il giorno. Ma quindi che fine hanno fatto non sappiamo, i 50 milioni? Ma guarda, c'hai 18.000 documenti da analizzare se vuoi, analizzali, poi ne parliamo. Ma la sua versione? La versione l'ho sempre detto, non ho mai preso un soldo e continuo a ribadirlo. Io parlo per me, punto. Suo padre che dice a questo momento? Trovate, continui in ufficio, lo cercate, fate un'intervista. Quindi i soldi non ci servono? Ancora. Allora, ti ho detto, io parlo per me, la mia vicenda la conoscete, sono sei anni ormai che ne parlo, io dico i soldi non li ho mai presi e vi ribadisco la stessa cosa, posso parlare di me. La questione della Lega di Salvini di Mattarella, non conosco, non mi informo, non mi interessa, allora mi dedico al mio lavoro. Crede lei al fatto che sono stati usati per fare politica? Sono stati usati per fare politica. Preleva?